la presente proprio vedi i fissati no che io proprio vedi un disopporto perché sai io sono più una cosa a me io lo fò così per la seconda volta sicché capito che da mia moglie mi dice ah tu sei sempre sul divano fare cosa e poi capigliano fò un quattro capigliano quattro lo fò ma poi tanto recupero la mattina stasera va a mangiare la pizza stasera va a mangiare la pizza la mattina recupero c'ho il pollo c'ho i miele c'ho carboidrati c'ho 20 grammi di carboidrati 20 di pollo e 4 di verdure per dire uno a casa mangia al pranzo prima di più dopo la sera recupera che fa anche un pasto di 9 per dire tu fai anche un girettino per ricordi importante è il miele al miele il miele la mattina è potente fa pareare c'ho le vitamine c'ho le vitamine bisogna operare bisogna operare a me questo è un problema s'allunga 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 no no facciamola per non allunghiamo tanto via avrò fatto e facevo 9 facevo un passo di 9 a un certo punto io dobbiamo fare un passo di 13 se chiedi tu sai che ero a casa per 2-4 calorie ho fatto un conto per 2-4 calorie al giorno le ripigliono un giro di un mese tu recuperi ma poi ho fatto rigarbo le gambe per dire andava a fare la gara no? arriva a fare il tresimo quattresimo e chi mi fece rigarbo le gambe mi manca ai potassi e mangia i tuoi banani mangia i tuoi banani e l'ho saputo si è preso un crampo mi fermai e allora mi ha detto che fa ehi tu se ti facciamo fare le scapavole ti fai andare a correre per dire ma tu fai un'ora fino a lavorare ti fai a correre uguale per dire o per dire manda le ricette poi a correre perché dopo è un casino perché tu ci rimetti o tu c'hai proprio le mantini proprio le pipolle per dire un po' di riso bianco arboidacchia che tu ti fa bene c'hai recupero c'hai recupero c'hai recupero c'hai recupero tu le recuperi e allora mi ha detto e non tu ce la puoi fare